Sempre domenica torna Pisa, Pisa Alf Marathon. Quest'anno la parte non competitiva della gara sarà dedicata alla dottoressa Barbara Capovani. La manifestazione viene fatta, come tutti sappiamo, per motivi di solidarietà, per valorizzare e ricordare a tutti il valore del dono. E quest'anno una cosa importante è che la parte non competitiva, cioè la 10 km che tutti possono percorrere a passo libero, ricorderà la dottoressa Barbara Capovani, ricorderete la psichiatra tragicamente scomparsa. Quindi l'invito è, oltre agli atleti, anche semplicemente agli appassionati della passeggiata, di essere presenti con noi per fare festa e per ricordare la dottoressa. L'appuntamento è per domenica 8 ottobre la Pisa Alf Marathon, attesi più di 1000 atleti provenienti da 20 diversi paesi, e la Pisa Ten, gara non competitiva da 10 km. Quest'anno dedicata al ricordo della psichiatra Barbara Capovani. Abbiamo deciso proprio ieri in giunta di approvare una delibera che sancisce che un'area subito fuori le mura, all'arco di San Zeno, una grande area verde che collega all'arco di San Zeno a via San Francesco, sia intitolata la dottoressa Capovani. Sabato prossimo l'apertura dell'Expo Village in piazza Vittorio Emanuele, domenica mattina poi dalle 8.45 la partenza delle due manifestazioni, che hanno come da sempre scopo benefico e si prefiggono di contribuire alla diffusione della cultura del dono. L'organizzazione è curata dal gruppo sportivo Lining Tower Runners a supporto dell'associazione Perdonare la Vita Onlus. Nella macchina organizzativa poi la collaborazione delle Onlus Cecchini Cuore, Regalami un Sorriso, e dell'associazione Dottore Pietro Ciccorossi, oltre alle forze del volontariato sanitario, pubblica assistenza, misericordia e Croce Rossa.